Cresce ulteriormente via via che aumenta il numero delle domande e il divario medio in proporzione alla popolazione tra la provincia di Ragusa e il resto della Sicilia, in fatto di numero di domande per il reddito di cittadinanza. In Sicilia 162.000, appena il 3,8% in provincia di Ragusa, cheppure ha una popolazione di circa il 6%. Segui un minore disagio sociale nel territorio iblevo? Impossibile dare una risposta prima di un'analisi accurata agli indicatori sottostanti. Questi comunque i dati. A Ragusa sono 6,271 le persone che hanno presentato la domanda all'Inps per ottenere il reddito di cittadinanza. Il capologo iblevo è penultimo nella classifica regionale per numero di domande presentate, seguito solo da N4610, in testa Palermo con 47.571, poi Catania 35.659, Messina con 19.571, Trapani con 13.841, Siracusa 12.471. La Sicilia con quasi 162.000 domande è la seconda regione dopo la Campania. 129.324 sono le domande presentate ai CAF, 7.474 ai patronati e 3.020 sul sito online tramite SPID, 21.565 agli uffici postali. Intanto ci si avvia la seconda fase, ovvero il tentativo di inserire al lavoro i beneficiari della misura, i quali sono senza occupazione. Per questa fase, che dovrebbe partire con la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro di chi riceve la RDC Card, il cammino appare al momento in salita. I centri per l'impiego, infatti, non hanno ancora la piattaforma dell'Ampal, che dovrebbe consentire la gestione dell'accompagnamento del lavoro dei beneficiari del reddito. Secondo la legge che introduce il reddito di cittadinanza, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Inps dell'accoglimento della domanda, le prime sono arrivate alla seconda quindicina di aprile, tutti i componenti il nucleo devono rendere la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, il DID. Entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, il destinatario del reddito dovrebbe essere convocato al centro per l'impiego per sottoscrivere il patto per il lavoro o il patto per l'inclusione. I tempi per questa seconda parte della misura sembrano allungarsi.